morgan cari amici morgan vedete cosa dice morgan asia è stata crudele c'è la asia argento la bella e brava e buona asia argento c'è scritto qua vedete asia è virgolettata asia è stata crudele vedete asia è stata crudele e poi dice qua c'è un certo punto pesava che so pesava pochissimo stava per morire stava per morire da morgan vediamo eccolo qua pesava 47 kg lo vedete che sta scritto qua lo vedete un crollo fisico dopo la fine della storia con asia una notte mi guardai allo specchio domani potrei non essere più al mondo beh asia è stata crudele c'è scritto qua vedete ipotesi non fingo verba volant scripta mane ma perché asia bella brava e buona asia argento è stata crudele con 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 morgan con morgan perché beh lo sapete meglio di me e voi lo sapete meglio di me che morgan è un artista io a morgan ho dedicato tanti video e l'ho sempre difeso l'ho sempre difeso perché io sono serafino massoni sono questo signore qua sono l'autore di quest'opera qua vedete beh l'ho sempre difeso a che sia chiaro morgan ha avuto prima aveva avuto una relazione beh prima ha avuto la relazione con asia argento ed è nata una bimba però a un certo punto morgan non aveva i quattrini per per alimentare la bimba gli assegni alimentari per cui asia argento si è rivolta alla magistratura e pare che la casa dove abitava morgan è stata messa all'asta e via di seguito ora morgan si è messo con un'altra lady un'altra signora e ci ha avuto un'altra bambina però i soldi scarseggiano ma per fortuna ora interviene la casa editrice la nave di teseo e presto esce il libro di morgan saranno anzi tre volumi saranno questo è il primo vedete per cui con i diritti d'autore morgan potrà far fronte alle eventuali necessità della vita perché adesso sono due le figliole che egli deve alimentare va bene cari amici io comunque a morgan io ho sempre voluto bene e lo testimoniano i molti video che ho a lui dedicato sin da quando venne cacciato da una certa trasmissione televisiva perché si diceva che facesse uso di uso di droga capire uso di droga vabbè vabbè dai tutto qua tutto qua va bene cari amici da allora tanti video va bene cari amici comunque c'è il fatto che che morgan ha detto che asia argento è stata crudele io mi meraviglio tanto che una una bella gherla bella brava e buona come asia argento sia crudele ma perché sei crudele asia argento non sei contenta asia argento di essere la figlia di un regista ti ha aiutato eh a percorrere la carriera cinematografica eh mica mica diventavi un'attrice sai se se tuo papà non era un bravo regista e non ti avesse dato una mano va bene asia argento cerca di vogliergli bene a dario cioè a morgan che è una brava persona a te morgan a te asia argento a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni